Sta per prendere avvio la presentazione ufficiale della prossima stagione 2008-2009 della Junior Vallesina, quello che potremmo definire un po' il serbatoio della Vallesina. Ne parliamo con Mauro Bertarelli che è responsabile tecnico del settore giovanile. I giovani sono promesse della nostra società sportiva? Sì sicuramente, sto lavorando io per la società cercando poi di tirar fuori giovani calciatori che andranno a far parte della prima squadra come fuori quota. Abbiamo tanti iscritti, circa 250 iscritti e si cercherà di lavorare tutti insieme, insieme agli allenatori, collaboratori e tutto quello che gira intorno all'organizzazione che è una cosa importantissima, cominciare dai campi da gioco, 4-5 campi da gioco, pulmini che girano per tutta la Vallesina per prendere i ragazzi. La mia presenza senza tutte queste persone logicamente non avrebbe senso. Il frutto di tutto questo è poi riuscire da parte mia a dare alla società quello che poi mi ha chiesto, i ragazzi per la prima squadra. Con la sua introduzione hai toccato tanti argomenti, intanto questo numero così alto, 250 ragazzi, le età dei ragazzi quali sono? Partiamo dalle categorie dei piccolini, dai 6-7 anni fino ad arrivare ai 16-17 anni. E le provenienze invece? Dai paesi della Vallesina, a cominciare dalle porte di Iesi fino a Serra San Quirico. Dunque un tentativo che all'inizio ha dato qualche perplessità sta funzionando, quello di mettere insieme ragazzi dei diversi paesi della Vallesina? Sì, diciamo che non è stato un lavoro facile da parte della società, però ha lavorato al meglio. Io cercherò di, come ho detto prima, di mettere a disposizione per la prima squadra quei giocatori che poi dopo veramente tengono ai colori sociali. Una battuta, Mauro Bertarelli, una carriera importante nel mondo sportivo italiano. Ecco, come vede il mondo dello sport e soprattutto del calcio in questo momento? Ma sì, avendolo vissuto a livelli importanti, logicamente è una grossa soddisfazione. Però ecco, io ho preferito da un certo punto di vista rinunciarvi perché ci sono delle cose che non condivido. Quindi ho preferito tornare a casa, diciamo, e occuparmi dei giovani che sicuramente sono la cosa più importante, secondo me, per poter cercare di indirizzarli in un certo modo. Dunque l'esperienza e la capacità di Mauro Bertarelli unita anche a una profonda conoscenza del settore. Sono garanzia di sicurezza per il Mosaico Vallesina e soprattutto per il settore giovanile, per la Junior Vallesina. Per Vallesina TV è tutto.